ciao questo video è su un video muy simpatico un video mucho colorado colorado miami beach colorato tanti colori bene oggi è una giornata spettacolare oggi è un arcobaleno di sogno di sogni dei tuoi sogni dei miei sogni è un arcobaleno di semplicità siamo qui con questa bellissima giacca la vedete molto bella vedete anche qua vedete la marca faccio una grande pubblicità per loro perché l'ho pagata al prezzo pieno questa giacca è una giacca mobile una giacca che tiene caldo devo dire che qui in questo appartamento riscaldato con questa giacca si sta molto bene si suda quasi dal caldo e secondo me è un ottimo segnale il segnale non è né positivo né negativo ogni evento che tu vivi lo puoi trasformare in un segnale in un messaggio o positivo negativo ogni cosa che succede nella vita ogni evento ha una parte tra virgolette positiva e una parte tra virgolette negativa perché in assoluto c'è una situazione c'è un evento c'è un'azione c'è movimento quel movimento chiamiamolo anche entropia di per sé è senza giudizio vivere per se stesso basta a se stesso poi qual'evento ognuno di noi ognuno di voi ognuno di te ognuno di me sì perché quando pensi di essere te sei me giusto perché tu sei me e io sono te noi ci specchiamo loro si specchiano e noi ci specchiamo ok va bene ecco allora questo non è un video umoristico non è un video ironico questo è un video ok poi dopo se tu lo giudichi bello o brutto sono azzi tuoi va bene a me a me a me a me a me piace piace molto guardarmi dopo aver fatto il video trovo che è bellissimo guardare le proprie opere perché in quell'opera tu vedi te stesso vedi una parte di te che non è neanche la parte di te ma è l'espressione di te è un'altra espressione è una manifestazione di te stesso te stesso che ti manifesti manifesto manifesto per le strade per esempio dunque c'è chi manifesta per le strade invece io mi manifesto tramite questo video a voi e sicuramente qualcuno riceverà un input per diventare lui stesso l'input lo stimolo o il messaggio per qualcun d'altro noi siamo noi siamo questo silenzio di nuovo arrivi ad un certo punto dove se fai una cosa non la devi giustificare se qualcuno ti chiede ma perché tu prendiamo l'esempio della corsa perché lo sapete a me piace correre allora qualcuno mi ha fatto la domanda ma perché tu corri perché dietro ogni azione c'è sempre un qualcosa giusto ma a me quanto e fino a che punto mi interessa sapere perché corro quello che conta è sapere che quella cosa che fai ti fa bene ok questo video la prima parte è stato un prologo per arrivare a parlare proprio di quello perché fai una cosa sapere perché non non ce ne deve fregare più di tanto perché comunque puoi dare qualsiasi spiegazione logica ma la vera ragione di tutto nella vita è l'amore per la vita perché ti crea un'emozione tiri fuori quello che è dentro di te dunque io vado a correre perché io vivo in quel momento io vivo emozioni io sono felice perché io mi studio tramite la corsa io 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 ok ci sono tante spiegazioni possibili per qualsiasi domanda ma riassumendo tornando indietro ripeto se fai una cosa la fai perché ti piace la fai perché la ami la fai per amore per la vita perché ognuno è qua per manifestare la vita a modo suo con i suoi colori scegli o l'arancione o il rosso o il verde o il giallo o scegli il blu il blu vedi questo è il blu ok e sì perché scelgo il colore blu in questo caso scelgo il colore blu perché se lo vuoi sapere vai e studi la conoscenza dei potenti un corso di alberto ferrarini dove parla di numerologia dove ci spiega i numeri il significato dei numeri e la corrispondenza tra i numeri e tra la materia tra quello che c'è e che vedi e anche dunque i colori dunque se vuoi saperne di più lascio il link nella descrizione di questo meraviglioso splendore di video e dunque ti puoi comprare questo corso che ha già avuto luogo di due giornate lo compri lo guardi imparerai sicuramente qualcosa e certamente pure siccome da cosa nasce cosa farai una cosa nuova ti porterà a un'altra l'obiettivo di oggi diventa scusate il raggiungimento il raggiungimento dell'obiettivo di oggi creerà un nuovo obiettivo domani ok dunque soffermarsi troppo sul perché il per come perché poi c'è anche chi dice che il per come è più interessante del per che perché il che è meno bravo del come ok allora 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 mi mi emoziono tanto sono molto sensibile io sono un ragazzo molto sensibile la sensibilità parliamo di sensibilità cambiamo anche la mano perché comincio a avere i crampi le rampe di lancio di questa mano che stanno che stanno 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 ok dunque la sensibilità è bellissima tu sei sensibile io sono sensibili loro sono sensibili noi siamo sensibili e poi io sono insensibile c'è chi lo è chi non lo è ok però una sensibilità smisurata come quella di molti di coloro che guardano questo video da sola porta la depressione e a stare male male ma molto male bisogna unirla ad una forza sensibilità più forza uguale maestria vuol dire apertura del cuore e forza bestiale animale la potenza la potenza che questo corpo ci dà perché questo corpo contiene le memorie degli orsi dei mostri che eravamo delle generazioni passate quando ancora non eravamo neanche uomini ma mostri spietati cavalieri cavalieri no piuttosto cavalli eh dunque quanto è bella questa parrucca quanto è bella questa questa giacca questa bellissima giacca vero molto bello montebello puro marchio marco no marco svizzero sì franco svizzero puro franco svizzero ecco meglio perché sennò se diciamo marco dopo si pensa a un altro paese dunque la questione è perché tu stai guardando questo video ma che cazzo ce ne frega di sapere perché lo stai guardando ma quello che conta è l'effetto inconscio inconsapevole che questo guardare questo video creerà fra tot mesi tot anni nella tua vita perché tutto ciò che fai esperienza ti trasforma ti modifica potresti vivere semplicemente in una camera in una casa in un appartamento e fare niente rimanere lì tot mesi che tu ne esci trasformato potessi pensare anche di fare niente ma anche fare niente vuol dire fare qualcosa perché qualcosa lo fa per te allora Aug metti il video no metti il like condividilo con i tuoi amici lascia un commento registrati al canale se lo vuoi perché questo è un tormento signori e signori buonasera questo è un nuovo video in diretta dal mondo colorato nel quale vivo vi porto vi porto un messaggio un messaggio saggio messaggio saggio messaggio massaggio messaggio massaggio chissà come mai basta un abbraccio